Importante incontro a Milano per fare il punto sul tumore all'ovaio, sulla ricerca di base su questo tipo di tumore e soprattutto sulla sua terapia. Se ne sono fatti i promotori il Mario Negri di Milano e Acto Onlus, alleanza contro il tumore ovarico. Ne parliamo col professor Cavallaro. Allora professore, quali sono le novità nella ricerca biologica sul tumore ovarico? Dunque, negli ultimi anni il tumore ovarico ha visto l'impegno di tanti gruppi di ricerca perché è un tumore che presenta molte difficoltà dal punto di vista della comprensione dei meccanismi che portano allo sviluppo e alle complicazioni successive anche alla prima chirurgia. È uno dei campi di ricerca più emergenti dal punto di vista dell'importanza e delle possibili implicazioni, quello delle cellule staminali tumorali nel campo del carcinoma ovarico. L'importanza è dovuta a due aspetti fondamentali. Il primo è che queste cellule staminali potrebbero risultare quelle responsabili da una parte dell'insorgenza del tumore primitivo e dall'altra delle recidive. Il secondo aspetto fondamentale è che potrebbero costituire un bersaglio cellulare ideale per i trattamenti terapeutici, in quanto sarebbe come tagliare le radici di una pianta infestante. Per cui la possibilità di uccidere selettivamente le cellule staminali del tumore ovarico potrebbe portare all'eradicazione completa del tumore e alla prevenzione delle ricadute e delle metastasi. Grazie a tutti.